bello a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video oggi si farà il provino per gli mt con gnocco no devo guardare solo la mia ma tu come la fai la regna? ma ce l'abbiamo uguale ma io non so come si va a togliere il corso dei messaggi c'è in alto c'è scritto visualizza messaggi guardate io ho fatto l'isola dei provini ho fatto l'isola dei provini allora ok tolte cose che non mi sa ma non me la fai andare veloce non me la fai andare veloce non ce la faccio giocare ma manco io nessuno 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 ci proverò però torna male ma dobbiamo fare big battle no vabbè facciamo con schiavo normale così no 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 questo è normale guardate io come costruisco e anche due rinno bello per non sparare ma guarda ma il coso della r è cambiato un borso sì ma comunque fa stavano intendo comunque l'ha già fatto da una volta il miglioramento mi abituerò a far sensibilità però di fai dai fermo ok voglio inizio io inizio io poi non posso come a giocare io sì vabbè io non adatto però ho scelto il miglioramento ho scelto il giorno sbagliato per entrare negli amici vabbè che hanno più sbagliato che potevo scelto ok non volevo stare a che volare ma io ho 134 di vita aspetta che mi rigenero po 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 voglio solo buildare il legno in moto e si è sparata a fianco non fare cercate non mi torna manco l'edit non ci posso credere guarda io come via io non riesco a buttare fabio capriamo che siamo imparando a bigare pensa che ora viene rovinato tutto ha fatto tornerà invece sarò va qui ora io non riesco a utilizzare questa sensibilità è frutti io mi sento come se ci avessi una pezzata una gamma e non è commuoverlo che io io con il comitore non riesco devi rompere controllo è arrivato che vabbè però stavano dicendo di quale voglio trovare un bug per come scama per pesare ancora l'idea con un video riguardo a te non è che forse c'è un tipo un'impostazione no da ma quanta vita non riesco a giocare hai visto quante volte ti ho smirato io raga sono un attimo a vedere se c'è un passo per foglio non c'è non c'è non c'è non c'è ma non uccidere dai ma facciamo una via ma quindi non mi ha stato aspettate che cambio nome del canale poi dopo si aspetta poi come si chiama ti aggiunge nel non si chiama nella chat di gruppo amici allora cambio nome invece che è la rex lord che è noto lord ma cambiarlo mentre sei live allora lo sta biggando velocissimo mt lord ogni secondo te ci sta bene mt lord io dai non male poi te lo cambia anche nella play ora è il problema si arrabbieranno un casino diciamo secondo me lo toglieranno subito sarà ma qui e c'è non mi puoi cambiare la sensibilità in una roba infatti ma c'è magari che ne so tolgono che ne so sparare di non senza spammando va bene non importa però quello che allora aspettate che mi cambio nome sulla play ma mt cosa vuol dire e metto frank no ma che tipo non avrebbe senso ok l'ho messo mt lord c'è nella play non su fortnite c'è su fortuna in 10 euro basta perché andree sono entrato negli mt con lollo e ci sta entrando anche tommy no io sono entrato con lollo sto facendo un po' meno con lollo però hai visto che ha portato il build ha portato che la sensibilità veloce te la danno letta 500 praticamente no a me a me c'è 130 e perché quella dove abbiamo chiesto io io ce l'ho segnata 900 come la mia no dai 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 che ce la faccio dai la voglia di fare con te no 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 non si fa no sono entrato buono no 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 sono io al team leader si va bene mamma fanno venire un attimo giù va bene e poi facciamo solo perché ci ha battuto ma è entrato Gnoco dai mamma fallo venire anche dopo con Nicola ne voglio fare un'altra e anche dopo con Ciecca ne voglio fare un'altra e ti apri la mamma quando mirate al nemico è tutto rosso non è la sua parola l'anno di salita andrea nei live di un cento di notte per il dio regalo e vedi guarda quando mi guardano si viene scritta rosa lega 32 non puoi scorre da fare unico no si vuoi di dare per il giorno malissimo 3 non so poi quanto lo parlo come il forza bib non lo so potessi che sia con la nuova tutta perché hanno messo con una nuova città è più o meno verso crocevia ma ora sta giocando in credito che non modificare troppo ragione la casa è un ora più o meno perché sono arrivato a casa c'è sviluppo la play finalmente poi mi fa mando meglio poi quando la rimetteranno poi non saprà che giocare perché è stato finire a puntare lontano per caccia che stanno infatti sono fatto per immagini io vado a vedere se si può che meno vita avevo 40 vero andrea avevo 46 di vita quindi c'è molto diversa si è sembra che tipo un cerco poi che io ho portato al samo ricendo ad andrea no che diventare più smirato questa roba nuova e poi 66 il mio come si chiama il non scopo così ho preso santo c'hai nebbici attraverso fate voi sì ma più avanti a massimo ti chiami benigno 09 però anche lo devi fare per poterli no mi metterò poi e metti loro non vendeva torni sì prima che perché io sto volevo lasciare l'arix di cosi perché eravamo in troppi eravamo in collaborazione con gli altri ho visto bravo l'hai fatto un dice kill perché mi ha messo anche dentro la chat gruppo la volta fatto un 10 kg gli altri tre gli altri non fatti di due te ne fatti lo pubblici io faccio da colpa da colpo perché sì ho capito quelle le batte non lasciate l'ho preso l'ho preso vabbè è una cagata ucciderlo con quelli nel senso basta che mi va ci ne voglio un quattro anche loro le usa infatti un po' di merda e poi come hai fatto a fare le altre kill loro così hai fatto il kill e poi ho visto l'ultimo che ti ha ucciso era un po' bello ma un po' di merda ma andata io andando che voi vi fai fate io fare a produttore ceste ho vinto vai adesso ballavo di fai che hanno fatto l'ho fatto dire uno ma il canale facciamo rifacciamo così prima avevo poca vita allora è fatta i trevi e superati non si deve fare il check a progetto vai faccire terminato così mi prendo 100 ma io facciamo ancora la struttura l'unica cosa bella che hanno messo le scritte in come come tipo la scritta di fortnite quello è bello il nome si vengono a certo di lobby ma aspetta no perché davide voleva chi mi chiamo per forza 302 dietro non mi vissi vero e metti diciamo che gioca alle go wars ma poi giochiamo alle go wars va bene ci vediamo da una vita non ho fatto il casino dei giornamenti più belli ma non te devi spiegare no vabbè ma quanto cacchio di vita no vabbè ma che culo che mi passai le progine il play ma cieca quindi non è dentro ma io sono dentro dentro l'allò nico nico se mi seguono il filo sono mi stai messaggiando nella live e sì se voi poi in siamo fuori tanto siamo in tre nel 3 degli amici e ceca ci devono entrare non facendo la big bar lo so la persona fa con poi che c'è certo altro come ti chiamano nana 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 buona aspetto a quello che quello con l'avatar ma quello con l'avatar del della della farfalla metti giovanano mt giovanana potremmo salino ha fatto poi la prima si mette in fine di un franco come verso nono svanta che si può mettere da colpare ma che c'è un modo una per i piccoli delle scritte come ti fanno me descrive anche il culo ma quanta vita ai mt e poi ti faccio 0 vabbè c'è la sensibilità di me cerca l'ultimo questa mattina c'è ma se quindi cerca dentro io cerco perché questo valo vinto io quando ripieni la cosa normale che possiamo fare a modo sì però no vabbè si sono riuscita a batterla lo voglia comunque 10 che ci lasciare parte a evo bete non mi fai io fatto io e poi ancora non mi dò da ma perché ancora così ha riuscito a risparare a risparare che hai distrutto ripropa e roba o bimbo comunque ti saluto è finito c'è simona stavo per dire ti dico vivo è fermo sono anni diego è messi diego davide perché la nata lo so non lo so comunque mi arrivò nei messaggi ho scoperto che non ero sulle notifiche era un problema della schiena dei messaggi no avevo selezionato che che non può che nessuno può era privata la carta che mi sono fatta mandati ora ora mi sono per lei ora non vedrete un altro ma niente ma bene non va cercare ce l'ho vanna se c'è che passa diventa ciao il nuovo membro del mt no vai non sei contento che sono dentro c'è che passato all'ultimo guardale guardale sì l'ho visto l'ho visto l'histe 11 e in totale 9 e 13 all'ultimo certo passo ma allora sono dentro sì 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 all'ultimo certo passo ah vabbè a forza la battaglia me l'ho mangiata scoppa 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 oh no co però non che le palla ma su ma su ma su ma su io pensavo di no 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 ma credo che eravamo che eravamo ok vai così vai tanto che un po' segomicità e allora e allora io lo so siete poi c'è Joe banana poi c'è Lollo e poi mo l'ho come è morto voi ti vedete che c'è secondo che è banana io invece sai come sono mi ha messo il mio quarto di ora perché dice che è Joe banana aspetta l'anno maggio banano secondo vabbè in due ovviamente in che punto è per cagarsi è venuto è terzo c'è che è il secondo è che c'è che il porto di ma quindi che posizioni su un secondo secondo l'anno mattina di malo devo dare io secondo note terzo o 4 veramente non c'era per me allora lalla mi chiede domani domani a come la legge quando e c'è il secondo Allora, è una cosa più difficile. È più forte! L'UMA FILL! Allora! Allora, allora, sì. Ma che è che sta giocando? Gnocca o Matoe? Gnocca. No, eh. Ma giusto Gnocca. Mi senti la voce, perché? Gnocca! 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 No, fermi! 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 Fermi di sparare! Oh, vai, easy! Fermi, basta di fightare, basta! Mi devo dire un attimo una cosa. Allora... Nooo! Fatta vita! Per il... Se te lo posso! Due fight! Due fight! Vado, va bene! Vado, va bene! Vado, va bene! Beh, però lì ci va solo di coppa! Vado, va bene! Nooo! Dai, invece di fare i fight facciamo qualcos'altro! Vi so... Siamo passati tutti due, quindi che si fa? Ma fa... sta buttando su le cose! Oh, chi è che mi spara? No, ma fa te! Dovete fare uno di uno con sicurezza e Nicolò! Ma che rie! Per il secondo posto! Nooo! Lui ha detto ormai me, punto! Sì! 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 Oh, l'ha detto lui! Sì! No! Eh no! Nooo! Eh, è sicuramente perché te l'ha detto lui! No! No! Perché... Primo... Primo non è mezzo come se stai! Sì! Sì! Primo! Ora guarda! Oh! O... 8 fight! Sì! Sì! Che credo! Sì! Sì! Ma... dai facciamo qualcos'altro! Invece di fare solo questa roba qua! Eh ma cosa possiamo fare? Io ho abbandonato la creativa ma... Non possiamo fare niente! Vai! Abbandonato! Ha abbandonato! Ha abbandonato! Ha abbandonato! Ha abbandonato! Eh! Nel caccio io qua ora perché non stavo così! Cosa possiamo fare? Non possiamo fare niente! C'è sta roba qua! Non ci si roma a fare niente! no vabbè ma se questa roba qua dura per sempre io mi tocco perché mi avete messo l'idea oh ma che si fa allora uno di esse breve no 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 io con questa roba qua non la faccio non si può giocare niente questa sensibilità non si può giocare niente questa sensibilità io ora vado un attimo a giocare a rainbow perché spero che domani la cosa ma chi è che c'è unito ma che è questo qua contro di che cross io vado a giocare a rainbow six age poi io sono мамico che sono who é un classico adesso la vai io ho peggio io non non posso capire se non si della Zute mi vai perché le nome è Mekì nella Zute no, è Mekì me vai getta, Mekì dalla Zute è perché è andato a giocare forza un altro gioco già qui so qui arrivo qui dov'è la smooch mamma fa una corsa so io perché ce l'abbia lento ah ma so io perché fa un salto fa un salto dei tuoi piedi lo so io perché gnocco lo so io perché va lento sai quanto ci vuole gnocco lo so io perché è lento perché perché c'è scritto all'inizio si va su quelle nuove cose sensibilità visuale sensibilità mira io ho messo 4 normale e 4 normale invece dobbiamo mettere veloce circa 6 o 8 vabbè io so che ho fortuna e ti guardo youtube iscriviti al nostro canale